L'operazione scattata a seguito di una segnalazione giunta alla polizia provinciale circa la presenza di una rete da pesca posizionata lungo l'Arno, la cui presenza è stata accertata dopo un primo sopralluogo sul posto. È stato così organizzato un blitz notturno per cogliere con le mani nel sacco i due pescatori di frodo. I giovani erano appena scesi da un gomone e stavano per prelevare tre quintali di carpe appena pescate con la rete. Sono stati multati 2.000 euro per entrambi, i pesci sono stati rilasciati nelle acque ed infine la rete e il gomone sono stati sequestrati. Nel 2017 un'analoga operazione era scattata alla diga di Montedoglio dove i carabinieri avevano sorpreso in flagranza di reato alcuni romeni che avevano pescato di frodo e stavano già vendendo illegalmente il pesce.